Quinto concorso letterario premio di città di Gravellona Toce, sempre alla centro le emozioni delle donne, il grande successo dell'anno scorso con quasi 90 brani iscritti, con quasi 90 autori e autrici e anche quest'anno sono aperte le iscrizioni. Sì, anche quest'anno riproponiamo questo concorso che ha dato insomma molte soddisfazioni e che ci ha permesso di di conoscere tanti nuovi autori. Come ogni anno speriamo appunto che chi decidi di partecipare, che aumenti il numero dei partecipanti perché abbiamo visto che insomma è un concorso apprezzato. Concorso letterario, poi evento enogastronomico ed artigianato ed infine anche un concorso canoro, la proloco di Gravellona Toce, non si fa mancare nulla. No, assolutamente, il concorso letterario è un concorso che ormai è conosciuto, apprezzato, è richiesto e il quinto anno che viene proposto e di conseguenza finché va bene, finché piace e continuiamo sicuramente. Quanto proponiamo invece per l'1, 2, 3, 4 giugno è un evento che ci auguriamo che possa piacere ai grevellonesi e anche perché no agli abitanti dei paesi vicini. È un momento che la gente può venire, può gustare, può scoprire sapori, colori, tradizioni e culture di varie regioni della nostra bella Italia. Quindi insomma è un momento culturale alla scoperta di nuove tradizioni.